Una società di Manziana attiva nel commercio di autovetture ha occultato al fisco 7,5 milioni di euro omettendo la presentazione dal 2008 al 2011 delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA e dell'IRAP. È quanto hanno appurato al termine di una verifica fiscale i finanziari del Comando Provinciale di Roma che hanno scoperto anche l'evasione dell'IVA per circa 800 mila euro. In mancanza delle scritture contabili e obbligatorie di ogni altra documentazione amministrativa le fiamme gialle della compagna di Civitavecchia hanno dovuto analizzare tutti i conti correnti intestati all'impresa arrivando così a ricostruire grazie agli ingenti movimenti di denaro l'importo dei ricavi non dichiarati tutti riconducibili alla vendita di autovetture. I tre rappresentanti legali della società tra cui un commercialista sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di dichiarazione infedele avendo superato le soglie minimi di punibilità previste dalla normativa penale tributaria.